Amici di milan.soccer, eccoci buongiorno, buon primo novembre, un bacio a tutti quelli che ci guardano dall'alto. Oggi è un giorno particolare, un giorno speciale, però noi dobbiamo essere qui come sempre per parlare del Milan e allora tra un pensiero e un altro, tra un ricordo e un altro, lo facciamo comunque molto volentieri perché fa parte della nostra vita di ieri, di oggi e di domani. Bene, allora prima di cominciare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale qui sotto, è semplice, c'è scritto iscriviti, attivate la campanella per rimanere aggiornati sempre con noi e mettete mi piace, il pollicione se vi piace, il nostro canale, il nostro video, il nostro tutto, il vostro canale, il vostro video, il vostro tutto. Allora, ieri ci siamo lasciati con una notizia che era un po' così nell'aria, poi ho iniziato ad approfondire e, come dire, la paura è diventata terrore, d'altro canto era Halloween, quindi come non spaventarsi con certe notizie. Beh, avete visto la copertina? Ora ne parleremo approfonditamente. Prima di parlare però ricordo a tutti che, come già accennato, ci sono buone notizie dall'infermeria, ci siamo e ritorna l'Oftus Cicca. A noi quel giocatore serve come il pane, lo sapevamo, un giocatore fragile, al Chelsea lo disse, Maurizio Sarri, era imprescindibile ma purtroppo è pieno zeppa la sua carriera di infortuni e ci siamo cascati un attimino anche noi, ma niente di particolare. La notizia di ieri qual era? Che noi, sicuramente, innanzitutto, ritorna Gerry Cardinale, l'abbiamo detto il 7 novembre, Ibrahimovic, eccetera, però chi non l'ha visto lo metto alla fine di questo video. Però la faccenda è un po' più particolare perché c'è un calciomercato parallelo che è quello degli svincolati e nessuno vuole gli svincolati, altrimenti non sarebbero svincolati. Il Milan ha delle urgenze, soprattutto perché Calolù sarà fuori a lungo, Benassert chiaramente ancora non è pronto, dalla parte sinistra abbiamo la necessità di avere un giocatore importante, come potrebbe essere Juan Miranda, ma, insomma, si sta trattando, il calciomercato quello di gennaio non è per adesso, quindi qualcuno lancia un occhio agli svincolati. Mi sono fatto una passeggiata su internet e ho guardato quelli che sono i top svincolati. Adesso stavo guardando, vabbè, il portiere De Gea, che è l'ultima squadra Manchester United, questo non ci interessa. Poi abbiamo Lingard, valore di mercato 6 milioni, ultima squadra Nottingham Forest. E poi abbiamo Xeca, valore di mercato 5 milioni, ultima squadra Renna. E Jean-Philippe Gbamin, valore 4 milioni, d'accordo. Ma è una cosa divertente, perché sto guardando come il loro, chiaramente, il loro curriculum, in alcuni casi è un curriculum importante, però, chiaramente, poi abbiamo giocatori di una certa età. Per esempio, Roberto Soriano, valore di mercato 1,8 milioni. Vediamo se è un po' come andare a fare una passeggiata nei mercatini dell'usato. Vedere se ci sembra tutto tanto bello, poi vai a vedere, ci sono tanti oggettini. Qualcosa che può essere interessante, ci divertiamo un po' insieme. Douglas Costa, valore di mercato 1,2, ultima squadra Los Angeles Galaxy. E poi ancora abbiamo Marco Benassi, valore di mercato 1,2 milioni. Chi si ricorda di Marco Benassi? C'è un episodio di Marco Benassi, per quanto riguarda il Milan. E poi abbiamo Andre Eiu, del Nottingham Forest. E poi, adesso mi fermo, perché davvero non possiamo pensare di andare a cercare nulla tra questi giocatori. Per esempio c'è... Ah, eccolo qui. Ah, 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 Rajan Angolan, che è andato alla SPAL. Ora qualcuno dice potrebbe tornare alla Roma. Ma va bene, dai, questo era una butade, come si dice in gergo. Pensiamo, diciamo così, non pensiamo al mercato di riparazione in questo senso. Noi abbiamo bisogno, innanzitutto, di non farci prendere in giro. C'è però invece una questione relativa, più seria, all'attacco, all'attaccante. Perché il Milan vorrebbe, insomma, a tutto tondo, chiudere superando l'Inter per Taremi. Io che cosa vi posso dire? Perché John David si potrebbe fare, ma si potrebbe fare alla fine dell'anno. Cioè alla fine dell'anno calcistico. Quindi solamente per il 2024-2025. Per quanto riguarda Taremi ci sarebbe un sorpasso rispetto ai cugini nero-azzurri. Io qualche dubbio l'avevo già espresso in passato. Perché il giocatore già nella sessione estiva aveva detto sì, poi ha rilanciato, poi farebbe accordi con l'Inter. Insomma, si tratta di capire se quando si fa critica nei confronti di alcuni giocatori per certi atteggiamenti mi sembra anche corretto farla anche nei futuri giocatori. Cioè Taremi non ha avuto, come dire, una folgorazione, un innamoramento, le farfalle nello stomaco perché l'ha chiamato il Milan. Però, l'abbiamo già detto più volte tutti insieme, il calcio non è più questo e quindi bisognerà pensare a un calcio del futuro fatto di professionisti che non sono assolutamente attaccati alla maglia. Io, piuttosto che provare a vincere la seconda stella, andare avanti in Champions League, a questo punto direi anche di sì. L'importante è che la palla la metta dentro. Perché se noi pensiamo di andare avanti con l'attuale pacchetto d'attacco sicuramente non andremo da nessuna parte. Quindi diciamo che in questo momento c'è un occhio al mercato che scade al 13 dicembre degli svincolati, ma come avete visto sono nomi che potete andare a ricercare. Mi sembra che siano nomi assolutamente improbabili e improvvisati, quindi è no. Però qualcuno ne parla. La questione relativa all'attacco per il mercato invece è quello non degli svincolati, ma degli attivi. Quindi con scadenza a gennaio c'è un sorpasso del Milan sull'Inter per Taremi e un sì anche per John David, ma a partire dalla prossima stagione. Quindi queste sono le notizie relative al calcio al mercato. Per quanto riguarda invece le questioni relative agli infortuni, la buona notizia è che anche per Chier e Ciucuese il rientro è molto molto vicino. Chiudo dicendo che il 7 di novembre è la data che tutti ci siamo segnati, perché ora mi arriva una conferma che ci sarà un'intervista di Gerry Cardinale che parlerà dell'attuale situazione. Io mi auguro, visto che vuole essere un Berlusconi 2.0, che dia l'annuncio, uno sperato e cioè l'addio di Pioli e l'altro sperato, cioè l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Non ce ne volere Stefano, ma è così. Bye bye.